Ciao a tutti i piloti di Extreme Laser Zone, io sono Ilaria e oggi andremo a definire lo schieramento di partenza del nuovo evento Faster Team Fantastico e allora partiamo subito ragazzi dicendo che ci sono 12 team iscritti andiamo subito a vederli con Ilaria perché li abbiamo proprio qua davanti su questi biglietti e andiamo a inserirli nel nostro recipiente magico quindi andremo a fare l'abbinamento oggi di lunedì 8 giugno gara 1 ci saranno 3 team gara 2 ci saranno altri 3 team volevo subito dire che i Lion che sono qua avendo dei problemi per il giorno 8 li inseriremo dopo li lasciamo qua da parte qui in vista qua ecco che si vedono perché li inseriamo nell'abbinamento di lunedì 15 allora andiamo subito Ilaria con i primi i Performance Bear Crew andiamo a chiudere velocemente il biglietto, butta dentro eccolo qui poi seguiamo Shark Racing Team DC Team magari portati un po' più vicino così vedono meglio eSport Italia eSport Italia eccoli qua perfetto chiudiamo DRG Motorsport Mene Gotto ci siamo ragazzi quindi tra poco sappiamo quale sarà la griglia di partenza di lunedì 8 giugno Cobra Racing GT i Lion abbiamo detto che li teniamo da parte fai vedere comunque il biglietto eccolo là schieno lì davanti in modo che poi li inseriamo nella seconda fase Executive Project come nono team ragazzi faster team una gara ragazzi che sarà incredibile questo evento Absolute Motorsport in evento eliminazione quindi da gara 1 e gara 2 del giorno di lunedì 8 giugno e poi gara 1 e gara 2 di lunedì 15 giugno verranno fuori a eliminazione praticamente 6 team e quindi andremo avanti poi per la semifinale allora attenzione adesso siamo all'undicesimo in Racing dodicesimo non perché sono dodicesi sono i più lenti anzi parliamo dei Fenix e abbiamo chiuso così i 12 team adesso andiamo a vedere quindi Ilaria mischiamo un pochino fai un po' una girata di caldarrost allora andiamo a vedere insieme quindi per lunedì 8 giugno gara 1 e li tiriamo fuori 3 team Ilaria ok luna alla volta andiamo a far vedere davanti alla telecamera Absolute Motorsport Absolute Motorsport un po' più di voce Ilaria un po' più di grinta perché qua siamo con Billy quindi Absolute Motorsport vai Ilaria performance per chi? voilà Iorsi Iorsi quindi Absolute Motorsport performance e Shark Racing Team e Shark quindi abbiamo allora andiamo subito a rileggere quindi gara 1 di lunedì 8 giugno Absolute Motorsport i performance e i Shark Racing Team adesso andiamo alla gara 2 ok ragazzi che spettacolo io mi immagino qui cosa succede gara 2 me ne gotto me ne gotto ragazzi quindi me ne gotto secondo team che va sulla griglia di partenza i Fenix attenzione Fenix attenzione 2 Fenix andiamo col terzo team andiamo qui dallo schieramento quindi la griglia di partenza per la gara 2 il lunedì Esport Italia Esport Italia perfetto Esport Italia adesso andiamo a rinserire i Lion fai vedere quello che sono sempre i Lion andiamo a inserirli dentro e andiamo avanti con l'estrazione quindi procediamo adesso per l'abbinamento di lunedì 15 giugno sempre per le qualificazioni gara 1 3 team Cobra Racing GT i Cobra i Racing i Racing vediamo il terzo i Lion signori i Cobra i Lion i Racing spettacolo adesso procediamo all'ultima stazione quindi sono gli ultimi tre rimasti andiamo a vedere chi sono per la gara 2 sempre per lunedì 15 giugno le qualifiche qualificazioni executive 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 DRG Motorsport i DRG ragazzi questa non me la voglio perdere i DRG Motorsport con gli esecuti e i DC team e i DC team ragazzi ma io a parte che tutte e tre le gare ho visto nomi incredibili quindi saremo veramente lì con gli occhi spalancati per vedere che cosa combinano signori quindi abbiamo fatto questa estrazione ci siamo adesso poi facciamo il post quindi io prevedo un super super evento vi aspettiamo lunedì 8 giugno per l'inizio di Faster Team con Extreme Wrestle Zone un abbraccio a tutti ragazzi e stacchetti l'aria stacchetti l'aria eccolo qua lo stacchetto di l'aria ragazzi abbiamo messo poi in difficoltà giù di gas ragazzi con Faster Team ciao a tutti ciao 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 a tutti i piloti di Extreme Wrestle Zone sono l'aria e oggi andremo a rifinire lo schieramento di perché dai ma si ok ciao ma dai cura l'aria e ci vediamo alla prossima smile